E' morto a 91 anni di età in Svezia Ingvar Kamprad, fondatore della società IKEA. L'imprenditore era nato a Smaland nel 1926, dove a 17 anni cominciò a lavorare alla sua azienda, destinata negli anni della globalizzazione a diventare un colosso dell'arredamento e dei prodotti per la casa a basso costo. Nonostante un passato di membro delle organizzazioni naziste di Svezia, Kamprad fu a lungo celebrato per le sue doti imprenditoriali, ma subì anche forti critiche per la sua spregiudicatezza nel ricercare il massimo profitto, ricorrendo a illusioni fiscali o approfittando del lavoro minorile nei paesi del terzo mondo. In seguito alle polemiche, la multinazionale creò una sezione interna incaricata di accertare le condizioni dei lavoratori, una iniziativa che alcune ONG giudicano di facciata, dato che in concreto non avrebbe modificato alcuna realtà.